La parola La parola ondeggiava nel cielo e per il mondo sotto il cielo regnava il potere dei numeri come bestiame di casa domato perché tutte le sfumature del significato rendono il numero pronto e intelligente. Il patriarca canuto che sotto il suo potere aveva messo il bene e il male non osando tenere a freno il suono con una canna sulla sabbia scriveva i numeri ma dimenticammo che luminosa è solo la parola tra le ansie terrene e nel Vangelo di Giovanni è detto che la parola è Dio. Noi le imponemmo i limiti insufficienti della natura e come le api in un alveare deserto male odorano le morte parole e come le api in un alveare deserto